Ciao ragazzi, bentornati sul canale YouTube di Associazione Culturale Maggiolina ad un video degli abbonati. Una cosa che mi avete chiesto durante la diretta della scorsa settimana è come fare a installare VLC. Allora ragioniamo su questa cosa, la facciamo insieme. Allora VLC, VLC, sta per Videolan qualcosa, è un riproduttore multimediale, è un programma gratuito e molto valido che si scarica da internet e si installa nel proprio computer. Io in genere lo faccio sempre, lo faccio da sempre e su tutti i computer, è compatibile con tutti i computer. Perché lo si fa? Lo si mette quando capita di non riuscire a vedere un video. Hai un video scaricato dal telefonino, hai un video che ti ha mandato un tuo amico eccetera, quindi ho un video, un file video proprio all'interno del tuo computer che non riesci a riprodurre. Ci clicchi sopra e non lo vedi. In genere è un problema di formato. Ormai ci sono tantissimi registratori di video che registrano in tante forme diverse, in tante scatole diverse, mettono il filmato in scatole diverse. Il riproduttore multimediale, cioè quel programma che serve a mostrarti il video presente nel computer, non sempre è compatibile con tutti questi mille formati che ci sono. VideoLAN, questo VLC, è da sempre un programma che legge praticamente tutto. Quindi quando si presenta il problema di un video che non si riesce a riprodurre, si installa VLC nel computer e lo si guarda. Quindi alla fine io finisco per mettere sempre VLC nel mio computer praticamente subito. Appena ho il computer nuovo ci metto dentro questo VLC. Lo facciamo insieme perché me lo avete chiesto. Quindi ho aperto il browser internet, scrivo VLC, Verona Livorno Como, premo invio, arriviamo nella schermata di ricerca, quello che ci interessa è videoLAN.org, la pagina ufficiale del sito di questo programma. Sapete che i programmi li prendiamo sempre dalla pagina ufficiale. Premo qui sopra, in questo modo siamo sicuri che ci danno solo quel programma lì e non altre cose allegate insieme. Scarica VLC. In teoria il mio computer capisce già qual è la versione che serve a me. Il browser, il loro sito internet fa sì che mi venga data già la versione ultima adatta al mio computer. Vedete che è compatibile con tutti, Windows, Apple, Linux, Android, smartphone della Apple e quindi si può fare dappertutto. Sugli smartphone l'ho usato, non ne sono stato tanto entusiasta, però provate, se magari c'è qualche video che non riuscite a vedere allora si usa. Lo scarico. Ho premuto su scarica e poi aspetto, fa tutto da solo. Una cosa importante, questo è un riproduttore multimediale di video che sono presenti nel vostro computer. Non è che se non vedete un video di YouTube o un video di Facebook vi dite, vi dite, ah metto VLC per vederlo, perché lui riproduce i video presenti nel nostro computer. Se non vedo un video online, YouTube, Facebook, Instagram e tutte queste cose qui, non è un problema di riproduttore video del computer, ma è un problema di linea, altre cose che bisogna vedere nello specifico. Questo volevo specificarlo. Bene, il mio programma sta arrivando, mancano ancora tre secondi, attendiamo. O quello che riceviamo è l'installer, la versione compressa che ci permetterà di installare il programma. Eccolo qui è arrivato, questo cono stradale è il simbolo. Posso chiudere tutto? Sapete che a me piace fare il giro lungo. Vado in Esplora File, vado in Download, vedo l'installer e ci clicco sopra due volte. Premo due volte. Quella che per voi adesso è una schermata nera, a me sta chiedendo, vuoi consentire a questa app di apportare modifiche al dispositivo? Sì. E lui parte, mi chiede la lingua, magari in italiano, la installo, ha già capito la lingua del mio computer da solo, dico ok, dico avanti, 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 vado sempre liscio avanti. L'unica cosa che faccio io nel mio computer, sempre quando installo i programmi, è cambiare il disco C con il disco D, perché io voglio mettere i programmi sul disco D per tenere libero il C, perché ce l'ho, perché abbiamo fatto tanti discorsi su questa cosa, quindi se sai di cosa si tratta, bene, perché hai visto gli altri video e quindi sai come agire. Diversamente lascia tutto stare, premi semplicemente Installa. Facciamo Installa e basta. Aspettiamo che il tutto venga installato, diamoci qualche istante. In pratica lui adesso decomprime, cioè tira fuori da quel file là tutti i componenti, li mette all'interno del computer nel posto giusto e quando avrà finito il programma sarà pronto per funzionare. Ora è finito, qui c'è scritto Esegui VLC Media Player, vuol dire che quando io dirò chiudi parte il programma. Proviamolo. Chiudi e il programma da solo si apre. Qui mi chiede dei criteri di riservatezza eccetera, io dico prosegui a consento a quello che c'è e basta. Il programma è aperto, eccolo qua. Da solo, nonostante sia un programma che fa un sacco di cose, mi serve a poco perché è un riproduttore video. Se ho un video da guardare, lui me lo riproduce. Altrimenti, vabbè, forse posso registrare, non lo so, ma altrimenti non ha tanto senso. Play, stop, avanti, avanti veloce, indietro veloce, eccetera. Questo qui fa riprodurre il video continuamente, cioè una volta finito ricomincia da capo, eccetera. Questa è la riproduzione casuale. Se avete tanti video ho anche canzoni. È un riproduttore multimediale, quindi video o canzoni, quindi video o musica ve le fa sentire. Potrebbe anche mostrarvi delle foto, ma nasce proprio per video e musica. Non so se riesce ad aprire una foto. Allora, chiudo tutto. Chiudo tutto. Questo è l'installer. Lo posso cancellare o lo posso tenere da parte. Sapete che in altre circostanze io li tengo da parte questi installer, perché magari un domani potrebbe tornarmi utile. È vero che un domani posso andare su internet a prenderlo, ma un domani magari su internet non c'è più, o un domani quello che c'è su internet non è compatibile col mio computer di oggi, che avrò anche domani. Quindi questo di solito lo metto da parte. Lo prendo e lo trascino da qualche parte nel mio computer in una cartella con scritto installer. Ora ce l'ho già, quindi questo lo butto semplicemente via. Ce l'ho già perché io VLC lo avevo già nel computer. L'ho tolto poco fa per poterti mostrare come installarlo. Chiudo tutto e sono a posto. Questa è l'icona di VLC media player che non voglio sul mio desktop, perché tanto non lo richiamo mai così. Quando mi serve VLC entra in funzione da solo, perché io vado su esplora file, vado a cercare un video. Allora li ho qui, i miei video ce li ho in spazio di archiviazione. Video. Prendo il video di oggi che è questo. Vediamo che questi video hanno già il cono, perché vuol dire che il mio computer sa già che quei video li riprodurrà con VLC. Ti premo sopra due volte. Ciao ragazzi, bentornati sul canale YouTube di Associazione Culturale Maggiolina. Questo video continua al nostro... Ed eccolo partito. Ora l'ho messo in pausa perché altrimenti mi sentivate due volte. Ed eccolo partito. Ora me lo fa vedere. Basta. Se il computer... Ora ho chiuso. Se il computer non riproduce da solo il video con VLC e quindi magari il computer continua a dirmi ma questo video non si può vedere eccetera, faccio in questo modo. Allora vado da un'altra parte. Qui in video ne ho degli altri. Questi sono degli altri video. Se il mio computer non dovesse riprodurli e quindi non apre VLC da solo, vediamo che non c'è il cono qui, vuol dire che non li ha riconosciuti. Per farglieli riconoscere come adeguati a VLC, quindi per dirgli questo video, questo tipo di video, voglio che venga aperto con il riproduttore multimediale VLC, faccio così. Tasto destro, apri con... Dov'è? Apri con... Scegli un'altra app, VLC Media Player e poi metto il... Usa sempre questa app per aprire i file. Dico ok. A quel punto... Vabbè, si aprono. Metto in pausa così non mi sentite. Il video si è aperto. Ora posso chiuderlo e me lo fa vedere. E è uscito questo cono accanto a tutti questi video perché questi video vengono riprodotti con questo... con questo riproduttore multimediale. Quindi da adesso in poi io sono a posto così. Bene ragazzi, mi auguro che il video vi sia piaciuto. Mettete un mi piace se è così e ci vediamo ad uno dei prossimi video. Tutti quanti possono installare VLC, Apple, non Apple eccetera perché è compatibile per tutti. Ciao, buona serata!